Sara, ho un video per te. Ti trovi bene qua? Sì, mi aspettavo peggio. Sto bene? Sì. Quanta? C'hai mangiata la sua stessa... Con me non ha mai giocato così. Questa è una volta che si mette. Con me non ha mai giocato così. Questa è una volta che si mette. Bene! Tu parlavi prima? No. E tu non dovevi fare niente? La crema sulle spalle, non lo doveva fare. Vinci, che c'è lei? Che c'è lei? Ci chiama a me. Sì. 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 Sì.